12 novembre 2019 ore 22 e 30 siamo completamente allagati oggi 3 ottobre 2020 siamo all'asciutto siamo all'asciutto però non siamo contenti siamo sollevati saremo contenti quando la manutenzione e la previsione per il futuro e la cura di questa città per il futuro sarà messa in moto ogni giorno nel quotidiano per quanto riguarda la pulizia dei canali e tutto quello che riguarda la città. Tieni conto quanti mesi sono passati da novembre oggi di recuperare un po' tutte queste immagini scampate. Questi ultimi 30 anni in cui vivo qua in questa casa piano terra ho avuto molte acque alte ma quella di novembre dell'anno scorso ha invaso completamente la casa è entrata dalla porta è entrata dai pavimenti spaccando i pavimenti l'acqua uscendo da bucando completamente i pavimenti è arrivata più o meno fino alla seduta delle poltrone. Questa una distanza di quasi un anno di quella del 12 novembre era prevista 135 quindi se fosse rimasta a quella misura nella situazione dell'anno scorso non sarebbe comunque entrata in casa ma saremmo stati molto allarmati perché basta sgarrare di qualche centimetro la previsione siamo fritti oggi siamo contenti ma moderatamente restiamo preoccupati restiamo vigili bisogna vedere se questo sia un caso meno e bisogna fare altro oltre a tirare su le paratoie quando ce ne sarà bisogno. Ci vuole anche un'idea di manutenzione urbana tutti i soldi spesi per il mose in questi vent'anni bene male rubati non rubati il mose funziona siamo contenti contentissimi non hanno permesso di fare altre cose altri lavori di straordinaria manutenzione ma anche manutenzione ordinaria a quelli dei canali. Non è soltanto il mose il mose blocca ma cosa cosa non si è fatto e cosa forse si sarebbe potuto fare a livello di manutenzione ordinaria di attenzione no perché la città è un po' stata lasciata tra virgolette allo sbando ci si è occupati molto del del turismo di massa ad esempio un esempio lasciando indietro cose più importanti Venezia è molto fragile delicatissima quindi bisogna averne cura